Giuseppe sei tra i più giovani relatori in sala trading cosa hai provato nella stare vicino a mostri sacri del settore? Sì sì è per me una grandissima emozione essere qui come la prima volta appunto tra anche tra le persone più giovani avere nel mio stesso tavolo comunque persone veterane che per me erano dei veri e propri esempi da seguire adesso trovarmi qui con loro è sicuramente un'emozione molto grande per me e spero che non sia la prima volta ma che sia solamente l'inizio di una lunga serie di interventi che posso fare con queste persone.